Di Portissa salvato dagli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno. Il malcapitato era a bordo di un natante ieri pomeriggio che all'improvviso ha preso fuoco a cento metri dall'imboccatura del Porto di Salerno, nello specchio acqua antistante il fareo verde del molo salernitano. Sono scattati immediatamente i soccorsi e una motovedetta già in mare per attività programmata di assistenza ai migranti giunti nel Porto di Salerno e contestualmente veniva consigliato al malcapitato a bordo di indussare il giubbotto di salvataggio ed abbandonare l'imbarcazione per dirigersi a nuoto verso la vicina scogliera. La motovedetta giunta sul posto ha recuperato il nafrago presente in mare, aggrappato ad uno zaino in evidente stato di agitazione. A bordo i militari della Guardia Costiera hanno prestato i primi soccorsi per consegnare successivamente il malcapitato alle cure dei sanitari del 118, presenti in banchina, precedentemente allertati tramite la sala operativa della Capitaneria di Salerno. Messa in salvo l'occupante del natante, la motovedetta è tornata sul posto dell'incidente per proseguire l'attività di spegnimento dell'incendio e verificare la presenza di tracce di inquinamento in mare.